Ciao a tutti, mi chiamo Maximiliano Arcidiaco, sono un istruttore di fitness specializzato nel combat. Sono ormai 20 anni che esercito questa attività in tutta Italia, dal nord al sud, tra masterclass, fiere, convention. Nel 2011 ho registrato e inventato un marchio di mia proprietà che si chiama iFit. Da lì abbiamo formato un sacco di istruttori in tutta Italia. Nel 2014 insieme alla mia compagna di viaggio Silvia Sinati abbiamo pensato di portarlo in acqua, quindi creare il format iFitWater e tramite lei abbiamo portato il format in giro per il mondo, quindi da Brasile, America, Russia, Olanda e così via. E poi circa 8 mesi fa mi hanno presentato il progetto nutrizione The Challenge. È stata una rivoluzione, soprattutto la colazione, alternando i cereali, i biscotti ricchi di frutta e verdura e il frullato Shape. Mi hanno dato molta molta energia ed è la cosa che ho notato subito. Dopodiché ho anche utilizzato il frullato per poter migliorare e recuperare quando faccio l'attività. Quindi il lato positivo è stato di togliere totalmente tutta l'integrazione prima e dopo l'allenamento. Per me è stata veramente una rivoluzione usare questi alimenti, che è cibo, per sostituire gli integratori. Adesso tramite colleghi, vari professionisti del settore, stiamo cercando di far conoscere il più possibile questo piano nutrizionale, perché nel mio caso e nel caso di tante altre persone è molto molto valido. Quindi sono contento di aver conosciuto e anzi ringrazio Patrizia per aver fatto conoscere questo piano nutrizionale The Challenge. Io ogni giorno incontro colleghi e consiglio sempre di provare questi alimenti, perché sostituire gli integratori con cibo, nel mio caso, è stata la cosa più importante. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!